Picchiati senza un apparente motivo durante un turno di notte, lo scorso sabato al Capolinea di Piazza Venezia in pieno centro storico, calci e pugni a non finire e poi lasciati in terra. È l'ennesima storia di due autisti vittime di un fenomeno in espansione, quello della violenza nei confronti del personale front line del TPL. Ci sono storie come questa che lasciano tanti punti interrogativi ma che soprattutto vedono il posto di lavoro come un luogo tutt'altro che sicuro. Tanto è che si parla di emergenza sicurezza e a dimostrarlo è anche un altro caso di cronaca come quello accaduto a termini in cui due uomini che volevano accedere ai binari superando le barriere senza il biglietto hanno aggredito un vigilante in servizio in stazione colpendolo a calci e pugni. Alcuni sindacati del Lazio hanno avanzato la proposta di costruire un osservatorio permanente che possa portare al confronto e alla tutela dei lavoratori. Sia in Italia che all'estero si sono diffuse alcune buone prassi che si andrebbero ad aggiungere alla proposta precedente e che vanno dall'isolamento del posto di guida alla presenza di guardie giurate o assistenti sociali sui bus, si legge nella nota, dalla dotazione di strumenti di autodifesa per i lavoratori all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fino all'inasprimento delle pene e al daspo urbano per gli aggressori. A Roma e non solo, i casi stanno diventando sempre più numerosi e, oltre quelli già elencati, c'è un fattore che non va sottovalutato, ossia la cultura del rispetto dei lavoratori dei mezzi pubblici, verso cui sono state avviate diverse campagne di sensibilizzazione e informazione. Serve un cambio passo, dicono i sindacati, perché chi svolge il ruolo fondamentale di garantire l'esercizio del diritto alla mobilità di tutti i cittadini deve poterlo fare in sicurezza.